Stavolta ho fede nel cuore delle carte, cioè nel cuore degli animatronics che non hanno E ciao ragazzi, benvenuti in una nuovissima live di Faccio le vostre notti Sì, ormai è diventata una serie questa, è diventata una serie a tutto effetto, a tutto effetto Non so nemmeno che significhi, però ciao, ciao, già vedo tantissime persone venire Oh ragazzetti, oggi è giorno, vediamo, oggi è il 6 agosto Tra poco ricomincia la scuola, no vabbè dai scherzo, non vi faccio pensare alla scuola già da subito Meglio fare il cattivo ora perché poi con gli animatronics e le vostre notti impazzisco Allora, mi piace tanto, già sarà un pochino diversa sta live, cercherò di farlo leggermente più cose, speriamo Intanto saluto alcune persone, saluto Scully Gamer, ciao come stai, sei il mio idolo, grazie, sto bene Lucia Gennaroli, ciao è il mio compleanno, augurissimi Poi andiamo sotto, ciao anche a Valerio Morelli, ciao Boy Black e Gaccia, ciao Stefano Riccato e ciao Joy Channel e stra... E poi c'è il nostro Eden Master di Five Nights at Edens Bene E' bellissimo vederti qua Eden, non ci sei mai in una mia live, però grazie per essere venuto, grazie Ciao bro, continuo così, aspetta un attimo, vado a leggere con... Eh, vabbè, lol, streamer, gucica giocola, bellissimo nome E niente, direi di mettere subito immediatamente le game, siamo già a 464 spettatori Bacini bacetti, poi vi faccio vedere delle cose E intanto se volete abbonarvi al canale potete anche farlo Ci sono delle nuove emoji, tra poco ho altri due abbonati e ne posso mettere anche un'altra Insomma, siamo qua, sono già due minuti passati Immediatamente apriamo sto gioco Uuuuuh, attenzione, donazione La donazione, intanto apro il gioco La donazione mi arriva da Firehender King Gap Pell Vabbè, ancora esistono i compiti per le vacanze Non stai scherzando, vabbè, ancora esistono Barbara Bagnoli, l'ora mi senti? Sì Ti sento, ti sento Ah, chiudiamo un po' di cose The Game Oh, eccoti qua Ah, bel gioco, bellissimo Aspettate un attimo, il primo che dice Non si sente il gioco È normale, perché non ci sono su Quindi aspettate un attimo, ora ci vado su Ah, che bello, che bello, che bello Tutto troppo bello Tra l'altro, dovrebbe uscire Roblox Da qualche giorno Adesso vedo quello che fare Ben ritornati, vai su Inviate le vostre notti Dai Non vado a prendere quelle delle scorse live Perché non avrebbe senso Andiamo, siccome è in live Andiamo a prendere proprio quelle della live Giusto? Poi faccio vedere pure delle fanart No, allora Non chiedete 50 metri Non la chiedete Non la chiedete Al momento no Allora, iniziamo con le notte facili Va bene Fai la notte di tutti i pipì Questa è una bella notte Tutti i pipì E di chi è questa notte? Un attimo, così lo dico anche Ma mia, quante persone Chi ha dato tutti i pipì? Chi l'ha detto? Ragazzi Quanti commenti? Scusami, però Non ti riesco più a trovare Va bene, tutti i pipì Va È pipì 1 È jj2 Poi abbiamo BB Phantom BB Tra l'altro nell'ultima live Mi sono scordato 4 animatronics Bonnie Perché Springtrap e Scraptrap Me le avete calcolati Come Bonnie Va bene Io non le avevo calcolati mai come Bonnie Perché c'è un esserumano dentro Però Altri Bonnie C'è, c'è altri BB Member BB C'è qualcuno che funge da BB A parte questi Che sono solo pochi Li controlliamo se non mi ammazzate Questo c'è Questo c'è Qua non ce ne sono altri Allora facciamo un'unione Questi animatronics più Nightmare No, no, no E non li metto Nightmare Tutti i freddi Tutti i freddi Sono troppo assai freddi Proviamo Vediamo quanti sono Uno Un freddi Due freddi Ce l'ha Golden freddi Phantom freddi Nightmare freddi Nightmare freddi Che conta come freddi Giustamente Nightmare Conta pure come freddi Allora Fino a questi due ci siamo Va bene Fino a questi due ci siamo Ehm C'è Elby che conta come un phantom freddi Piccolino Molte freddi Rockstar freddi E lefty E il chip Non conta come un freddi Vero o no Ok Quindi Eh Ricapitiamo Freddi Approccio dal corrido Di sinistra Due freddi Mamma mia Mamma Mi potrebbe succedere Due freddi In qualche modo Bb Dj Golden freddi Phantom freddi Eh E questo lo so Phantom bb Va bene Nermel freddi Ce l'ho Nermel fredber Dalla sinistra Lui dalla destra Nermel bb Sempre con la torcia Elby Va bene Rockstar freddi Con il numero 3 Lefty E Lefty Con il global music box Ok Ci siamo Saluto quattro persone Iniziamo Che siamo 644 Ciao Sense 468 Ciao Rickstore 007 Notte 3000 punti Vediamo Cosa possiamo Fare Allora Power 1 Rigenerato 2 Eater Power 1 Global music box Numero 5 Ah All off con x Si Mamma mia Ecco perché Erano le skill Ecco le skill Do erano Fatte a ricordare Ora ste skill Dannazione Mr. Toy Freddy Mi scusa lei Mi scusi lei Come poter fare Era la z Ho premuto la f Questa no Questa è stata Deficienza mia Scusate La mia Deficienza Scusate La mia Deficienza Aspetta Ma che Mi mette Cose casuali Global music box No No Allora Iniziamo così Grande Mi piace Neber BB Ballon Buon Tutti Quanti Aiuto Aiuto Sono sopravvissuto Sono sopravvissuto Occhio Attenzione Attenzione Global music box Per stare attenti A lefty It's not my fault I have these fat plastic fingers Ditemi una cosa please Si può uccidere Toy Freddy col death coin Perché me lo vado a comprare subito Ditemi se si può uccidere Lo vado a controllare sta cosa 800 spettatori Ditemi di si Si può uccidere Quello col death coin Non mi ricordo più Nulla Che c'entra Questo Allora Una volta Devo andare a controllare Questo Ma che vuoi Ballon Voi Amore Ok Ora subito Dimenticamente Perché porca Di quella misera Sono tutti cattivi Qua Ok Ci siamo Non te li deposito Ti fai Ti fai Ti fai Ti fai Cinque Sto morendo Male Mi uccide Mi uccide Che pover No Death coin Si si può uccidere Allora Uno ce l'abbiamo Perfetto Uno ce l'abbiamo Toy Freddy Devo distruggere solo Toy Freddy Facciamo dieci Coins E diamo i death coins E al diavolo Toy Freddy E al diavolo Toy Freddy Va bene Ci state Dai io ci sto pure Dai qua Così Lo scopo è Bloccare Sti maledetti Animatronicissimi Global music box Per fermare Lefty Bellino Bellosso Che tra l'altro Ho messo pure in copertina Quanto è bellino Lefty Sinceramente è uno dei pochi Animatronics Di cui mi piace il design Perché No Non è che possibile Due secondi ci impiega Toy Freddy Non posso adesso neanche ucciderlo Sono morto Guardate Che prudentà Non è mai colpa tua Toy Freddy Non è mai colpa tua Mamma mia Tutti devo uccidere Ora Mai Intanto salutiamo Antonio Paraiola E Arianna Sanfilippo Una cosa devo fare Una Una ragazzi Una Uccidere i tuoi Freddy E poi Chi si è visto Si è visto È stato bello È stato un piacere È stato troppo Bello Vivere questa vita Così Sparapapapapapapa Apriamo un po' di tutte cose E ci siamo Spero Più sale il calore Ragazzi Più sale il calore Secondo me ora Mi devo prendere nelle telecamere Subito siamo solo a 3 patch coins Me l'ho fatta apposta Ok Dai Allora Ok quello è chiuso Ah un minuto Sono l'ora del mattino Dammi 10 patch coins Come 10 patch coins Un attimo devo andare là Deee L'abbiamo fatto No 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 L'ho fatto Puzzi funziona Dannazione 5% Dai Però l'ho fatto L'azione l'ho fatta Dai no Dai E che ce la fammo E che ce la fammo Non ce la faccio Non ce la fa Dannate Dannate Animatronics Pezzi Te le do 5 coins Però abbiamo capito Qual è la strategia Per battere la notte Abbiamo capito Qual è la strategia Per battere la notte Oh io ci provo Col 10% Secondo me basta tenere questo Secondo me così è Cerchiamo di tenere Il generatore E Facciamo un po' di questo Dai ti prego Col 9% Allora cerchiamo di tenerci Sopra Sotto l'80% No Lefty Lefty Quello è il problema Lefty I'm so glad that I found you Eh Let me make room for you Eh Che ha detto Che ha detto Comunque ragazzi Si stanno invertendo i ruoli Dai che questa notte la completo Questa è bella Questa mi piace Intanto saluto Carlo Crusca L'accademia della Crusca Bellissima Eh Ciao Ciao Kevin Ciao Kevin E ciao i two players Ippopotamo bioma Si Esattamente Intanto vediamo se ci sono state donazioni C'è stata una donazione Grazie Grabritz Tele per la donazione Mi saluti Ciao L'ora fa questa Nightmare Scrap Vediamo dopo se farla E Vai Andiamo di nuovo con questa Il death coin Eh In poche parole la notte è già completata Basta avere il death coin E Non avere problemi con Quindi subito fare così Ah no no Aspettate un attimo Scusate Scusate Ovviamente Io ho detto il death coin E quello c'è morto Che Che crudeltà Metti questo Che è magari più bello Come un ufficio E più pulito No Ti dà più Pro agile Inside Non lo so Muovo sempre quello Anche se non serve a nulla Ok È servita qualcosa Grazie È stato bello Ok 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 Con global music box Due secondi Togli Stacca Un attimo Eh ragazzi Non mi ricordo più Nulla Ragazzi Aiuto 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 C'è il lefty C'è il lefty Da qualche parte Ma io metti Global music box Aiuto Sto morendo Guardate quanto sono Guardate quanto è Guardate quanto è Attimo tutto Attimo tutto Eh Bro Bro Elf Mi tu Allora Devo dare solo questo A Ok Ci siamo Così Ci siamo Un attimo Datemi il tempo Ok E forse ci siamo Così Spegni tutto Spegni Perfetto Global music box Yes Il toy friend L'abbiamo distrutto Mo ci tocca solo Stare attenti A reset Ventilation E a tutto il resto Global music box Per stare Calmo Lefty E Adesso Ripartiamo Appena ci sono Ok Ok Spegni tutto Così Perfetto 2 del mattino 2 del mattino 2 e 15 Vai 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 36% Vai Bro Io ti voglio TVP Tanto business Mi fai vincere Ah Tra l'altro Pure la torcia Sprega Giustamente Ok Calmi tutti Lefty Tranquillo Un attimo Lefty Tranquillo Lefty Tranquillo Tranquillo 23% Tranquillissimo Bro Io ti voglio Tanto bene No Non lo voglio Non ho paura Di quello 4 del mattino Manca Un minuto Buono Questo Non c'è bisogno Ragazzi Ho paura Non importa Che vado Nelle telecamere Però 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 Oh Ma perché questo rimane Nonostante io lo illumini Ok Siamo andato Ciao Sara Cerrini Un minuto Un minuto Un minuto Dai Dai No 5 del mattino Porca miseria Ma perché la torcia spreca energia se va a batterie Perché mi sa che tutta la baracca va a batterie Mi sa eh Dai Dai Ce la facciamo Ce la facciamo Power up Togliamo DD Rimettiamo Toy Saluto Marco Messina Ciao Ciao TheWolfGamer89 Ciao Robert Joker Eh Ragazzi Se volete potete anche abbonarvi Se volete potete anche Fare tantissime emoji belline E facciamo stanotte Ormai completiamolo Dai Completiamolo così Passiamo alla prossima Certo Completiamo Prima abbiamo D'arte Deathcoin A quel pazzo Vai a dare Deathcoin A quel pazzo 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 Deathcoin No Scusate un attimo Ecco Rifacciamo Rifacciamo Non voglio prendermi lo jumpscare Non mi piace lo jumpscare No no Brutto Brutto Ok Tanto c'è stata una torazione Che non ho potuto leggere Di 5 euro E chi è? No Bene così Bene così Bene bene così Bene così Non te li deposito i 5 coins Ma se ti ho messo Ti ti riprendete Menzio your night Eh Ti voglio rendo bene Per questo Sai Troppo bene Mi bird like you So I'll do you a favor Si 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 Vabbè No Leggiamo la donazione Della donazione Gentilissima Un attimo Funzioni Signore Bello Ok Allora Donazione Attenzione Mattox40 Saluta Mi Mi saluta Quelli in chat Quelli che puoi Certo Ciao Mattox Ciao Ciao Mattox Allora Vediamo Ciao Davide Mazzurco Ciao Carmelo Fritz Ciao Andrea Beatrice Menichelli Presumo Si dica Dai Dai Se l'ho fatta una volta La posso fare un'altra volta Giusto Giusto Con tutte le speranze Che si stanno Nel mio corpo Vaffamagna Ok Un po' di questo Stiamo sotto Stiamo sotto Stiamo sotto Andiamo qua Quando quello stava là Sei fudge coins Digià Sei fudge coins Digià Perfetto Pro non te li do I 5 Forza Thank you For depositing 5 I'm unfortunate Uh oh I'm unfortunate Nananananananananananananananananana Nanananananana Ragazzi sto sfrecando Un sacco Pro Siamo No 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 Ho messo la maschera Mi fate arrabbiare Mi fate Mi fate E così E' paccato Così sto gioco Che proprio io non lo so Aspettate un attimo Vai Nuovo abbonato Ciao mattox Grazie per esserti abbonato Menuti d'applausi Nuovo abbonato Benvenuto Aspetta un attimo Che sono in una fase critica Ah Ok Ok 3 Ma ci sono fights coins in giro Però io lo devo fare Facendo per forza così Perché Sinceramente Non mi fido E' certo E' certo E' certo Dai Allora Nuovi abbonati E salutiamo i nuovi abbonati Mamma mia Tre abbonati Un suo colpo Raga Allora Ciao Grazie per esserti abbonato Mattox40 Grazie per esserti abbonato Francesco del Vecchio Grazie per esserti abbonato Pasquale Carpentiero Salutiamo altri 4 Ciao Roberta Ciao Ciro Cazzo Lino Ciao Star Galaxy Ciao Anna Carrera Carrera Scusa 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 I'm sorry About that E' di 4 minuti Al 6 agosto Sto morendo di caldo Yes E ci siamo Ci siamo Anche questa volta Vi ricordo quando mi divertivo a fare così A fare Ecco bravo Così forse me li faccio più velocemente Pinescoins Sapete Quindi facciamo proprio così Basta Perfetto Death Coins Non mi riesco a comprarlo Non sono riuscito a comprarlo subito Eh si grazie Eh si grazie 60 No E' proprio un pizziato questo Un pizziatello E' un Dennis Doriello E vabbè Quanti abbonati Quanti vi siete abbonati Raga Quanti Chi c'è Allora Grazie Radu Boston Per la donazione E grazie anche All'Holwolf Per essere abbonato Ragazzi Mi state facendo confondere Con tutte queste Donazioni E' Pura 20 Perfetto E' solo così Posso usare Pro un attimo Pro un attimo Pro un attimo Ok ci siamo Vai con le global news box E già L'avevo fatto L'avevo fatto L'avevo fatto C'è ora una solita Zittore Che sorprendi Robert Joker Devo capire le tattiche La so io La tattica Solo che devo riuscirla a fare Sta tattica No Perché la tattica La so La conosco Vediamo se Bonnet Cioè Se quella Mi ha messo qualcuno No No giusto Ok ragazzi Provo L'ultima due volte Passiamo alla prossima Ma non vi preoccupate Che la completo Avete fiducia Ma io vi plego Perché tanta Viste Ma io vi plego Vabbè Ma ogni volta Aspetta Ok Vai Parapapapapa Scusate voi Devo fare Tanti punti Con I super mega Animatronicissimi Vi illumino Tutti Quanti Maledetti Un pochino Di questo Ok Ragazzi Se n'è andato Se n'è andato L'ho andato L'ho andato L'ho andato Maledetto Clash and gang E tra l'altro nel mio sudore Avete fiducia a me nel mio sudore Ok Un po' di questo Stacca Ma da Due secondi che non l'ho visto Mi immazza Sto esaurendo Va bene Sto esaurendo Sto esaurendo Ora Non ci Porca di quella miseria Fammili subito Sti 10 pass coins Quanto tempo ci vuole Per farli Eh Ci siamo A 10 pass coins Ci siamo L'ho ucciso L'ho ucciso Global music box L'ho ucciso L'ho ucciso Supposta Poi Poi L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso l'abbiamo ucciso quello vero non dobbiamo preoccuparci di lui ma di più di lefty due del mattino due minuti allora se resistite due minuti magari possiamo dire che siamo amici va bene 42 per cento ma secondo me ce la faccio con questa energia voi che dite voi che dite go go simona a oliorca oliorca scusa ma di questo così per non sbagliare un po questo un po questo 3 del mattino non lo so non lo so non lo so proprio non lo so proprio non lo so proprio l'unico problema è non morire con le ok ok no ho fai qua ho fai il mio global music box 18 per cento tre ventotto tre ventordici ok 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 dai ci siamo ci siamo ci siamo devo resistere 30 secondi 60 gradi 60 gradi 60 gradi o forse un power per cento please deposit five coins please deposit five coins noooo Petrice Nardecchia Andai Gianpaolo hai ragione Lore vs Slav Tip Top 5 Anime Battle Veramente Ci sono quasi No devo farla almeno una notte la devo fare Siamo a mezz'ora Almeno stanotte la devo fare Mi dispiace Dai Lore Ah no Grazie Allora Intanto salutiamo Grazie a tutti quelli che si sono abbonati finora Mi saluti Ciao Francesco del Vecchio Ciao Carlo Crusca Ciao LisonX07 Ciao BoboRainbow316 Ciao Girl2.0 Ciao MoonKitty Allora facciamo uno stacco prima di fare questa notte Perché vi volevo fare vedere delle cose Due cose Perché volevo ringraziare delle persone in live Le persone in live che mi hanno fatto due cose bellissime Ora io vado su Instagram un attimo Datemi il tempo Ora ve le faccio vedere Ok di qua E abbiamo Tra l'altro bellissimo Cioè raga bellissimo sta cosa Posso salvare sta immagine? O devo per forza fare tipo una cosa così Nuovo abbonato? Nuovo abbonato Aspetta un attimo Allora Questa è un'immagine Che mi hanno fatto Cioè che non hanno fatto a me Ma hanno fatto È una fanarte Ecco Una fanarte Di un animatronics Che conoscete molto bene Ve lo faccio vedere Salva Salva Ora aggiungo Nuovo Immagine Perfetto Ce l'ho Ce l'ho Eccola Allora questa Bellissima Tra l'altro guardate quanto è bello Questa è una fanarte Di Troxy Guardate quanto è bella Questa fanarte È troppo bella Devo ringraziare Chi me l'ha fatto Aspetta Me l'ha fatto Cylinder.istandy.fnaf Ma è troppo bella È carinissima Vi voglio bene raga Vi voglio bene Per queste cose Però mi piacciono Un sacco Le fanarte E poi Adesso vi faccio vedere L'ultima Che è stata Tra l'altro La prima Per quanto riguarda Questa animatronics E me l'ha fatta Il mare capovolto Ve lo faccio vedere E poi finiamo Quella notte E basta Ok Subito Stacco Così Tac Così 5 secondi Tac E Ve la faccio Vedere Che ho intenzione Di ringraziare Le live Perché veramente Io non saprei Disegnare così Non saprei Disegnare così Se mi volete Fare Per arte Fate pure Ragazzi Io Non vi dico Di no Va bene Non vi dico Di no Cambiamo Immagine Togli questa Aggiungi Nuova immagine Eccola Vai Questa E questa E questa è L'altra Ah Pimbe friends Ciao Sara Fiore 06 Tac Ciao Simo Ahmed Derb Ma è pronto Che io dico Tac Quando non sono Milanese Però Troxi Troxi Ti vorrei mettere Da qualche parte Per cercare Di fare la notte Con te Però purtroppo Ti devo togliere Peccato Dai Facciamo E finiamo Sta cosa Ringrazio Persona fantastica Grazie Persona fantastica Mua Per me Mi fatto L'abbonamento Ok ci siamo Farmiamo 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 E questo Se è andato Perfetto Global music box Due secondi Ok Ci siamo Quasi Ci siamo Quasi Perfetto Così ci siamo Ora Sono molto più Sbrigativo Come vedete Riesco A fare Più cose Ora il problema È solo Lefty E l'energia Lefty E l'energia Un per cento Di potenza Grazie No No Ce niente Ce Te lo puoi Lo puoi dire A qualcun altro Ce Ce lo puoi dire A qualcun altro Lefty Perché mi dice Ce Ma Ma C'è Ma Vaffan bagno Vaffan bagno Veramente Ti ci metti Pure tu Grazie Delpers Per l'abbonamento Grazie Il tuo abbonamento Sarà ricompensato Con la mia vincita La mia vittoria Ah Io non lo so Io non lo so Ti odio Eh Togli 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 Non deposito Five coins È stato bello Vivere È stato bello Vivere È stato troppo Bello Vivere Recupera 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 Ok Ma Bezzi Tu sai dove Five coins La porca Di quella Miseria Come si fa Eh Lefty Lefty Più avanti Di così Non ha potuto andare Porca Di quella Miseria Ma DT Ma perché Ogni Cinque secondi Ma nell'arco Della tua vita Sedere Solo I Un Fortune Un Un Fortune L'affanbagno Eh ma Dai Ma questo è proprio Un vizio Ce l'avete Eh Mi volete Morte Basta Ti odio Ti odio Con tutto il mio cuore DT Quanti arrivatori Mi hai messo Ma soprattutto Quali Mi hai messo Eh cioè Quelli che ti rompono Vabbè 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 È morto adesso Subito Immediatamente C'è lui Five coins Se te li do Anche Così non ci rompi più E adesso Come faccio A recuperare L'energia E' quanto Inutile Sta cosa Sto sclerando Sto sclerando Lo so Eh però Con questa cosa Che si alza Va sopra Allora 60 Va 60 Tieni a 60 Tieni a 60 Basta Lefty Mi sta per Attaccare Bello mio Adesso Avete venire Con i fast coins Grazie Per i fast coins Lefty 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 Porca Lefty 1% È stato Bello È stato Bello È stato Bello Non guardiamo L'orario Se no Mi cipicciamo Con l'orario Eh 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 Bro Eh Bro Ma che ti posso dire Bro 2% Non ce la faccio Ce la faccio Non ce la faccio Posso rimanere così Titta la vita Ma non ce la faccio Non ce la faccio Non posso più bloccare Lefty Non posso più bloccare Lefty Perdi tempo Perdi tempo Dannate ventilazioni State calme State calme Dannate ventilazioni No Lo sapevo Si 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 Ma ormai ci sono A completare sta notte La dovevo fare Adesso Ora o mai più Per maledetta Maledetta power Maledetta power E io che pensavo Di avere problemi di power In sto gioco Ma se l'ho tolto Un attimo Dannazione Scusate ragazzi Se lo sto calcolando Alcuni dei vostri commenti E anche altre notti Però E' proprio una questione Di Come dico L'ultima Come ho detto L'ultima volta Orgoglio Orgoglio Saiyan Orgoglio Proprio Orgoglio Inside Dannato Lefty Papapam Pam 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 Mamma pam 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 Non è l'essere veloce Eppor che miseria Sapere Quando Lefty ti deve attaccare Sto maledetto Grazie per l'adorazione Dottor Deposex Vai allora ce la puoi fare Grazie per la tua fiducia Ti voglio fare Grazie Delpers Grazie Togliamo quelli che mi ha messo Che già c'è 60 in più Perché c'è 60 in più Ed è master Prendete un caffè Ed è master Effettivamente di quello che mi doni Mi arriva leggermente meno Però ci sta E questi sono animatronics Ah ok certo lui c'è Vai Va va là va là va là Let's go let's go let's go Alto Giovanni e Giacomo I migliori ovunque Sotto questi punti di vista Allora tu fai così Fai così Fai così Fai così Farma monete Farma monete Non farmi monete Perché quello Forca di quella miseria Non sbatte Sbatti ballonbo Ma perché ballonbo Non sbatte Ho detto sbatti Sbatti ti prego Ragazzi ho un problema Ballonbo Non arriva Perché ballonbo Non arriva Ah ora Arrivate Ballonbo Eh ho detto io che mancava qualcuno Ho detto io che mancava qualcuno Ballonbo E mancava Mi odio Mi odio Mi odio perché ho voluto La mia stessa morte Colpa di ballonbo Che non attacca Devi attaccare ballonbo Quando ti dico io Per favore È un meccanismo il mio Quello di farti Fattere in considerazione Di farti morire E dai 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 Pop Pop Ancora un altro po' Che siamo solo a 5 pass coins Un nuovo abbonamento Un certo 2000 Non so che cosa Allora Dove te lo metto quel microfono Rockstar Dove te lo metto quel microfono Rockstar Perché siete così cattivi Oh Fats coins mi rimane No Dai Eh tu hai found me Io hai found you Grazie matrix 2000 Mi piace sentire i miei scleri Vero Lo so che vi state divertendo Un mondo In questo preciso momento Con i miei scleri Lo so Lo so Lo so Lo so Lo so Lo so Io lo so Lo so Ci sto troppo tempo Nelle telecamere Devo essere veloce Devo essere veloce Ci sto troppo tempo Nelle telecamere E lo so Perché Porca di quella miseria Ogni volta mi deve Boh Non te le deposito Non te le deposito Non te le deposito Ormai Grazie For depositing Five coins Ragazzi sono morto Ragazzi sono mortissimo Ok Non l'ho controllato Un attimo Sta passando la banda Ragazzi Sta passando la banda Ragazzi Perché C'è festa nel mio paese Dovete capire questo E quindi ora C'è la banda Che sta passando Forse voi non la sentite Ora Ora arrivo Si sente Potevo alzare il volume Aspetta 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 Sentite Va bene Dai continuiamo Ragazzi Ragazzi Praticamente Sono qua sotto Praticamente Sono qua sotto Vi abbassa il volume Così Ok Questo ufficio Questo Datemi forza Sbagliato Ok controllo qua Farma 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 Oh Posso chiuderlo Non posso chiuderlo Yes Ok Ci siamo Uno l'abbiamo eliminato Stuttiamo questo E abbiamo la giusta percentuale Abbiamo la giusta percentuale Yarr, you win some, you lose some Yarr, you play with fire And sometimes you get burned Ah Detto io che c'era qualcosa che non andava Cos'è? Ti odio Dalla vita Però Prima tu mi aiuti E poi mi sdirruppi Mi uccidi Mi vuoi morto Errore 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 Ce l'ho puntato quell'errore Ce l'ho puntato quell'errore Però è che non mi voglio arrendere ragazzi Non mi voglio arrendere Proprio non mi piace questo fatto Ci vuole tempo Ci vuole tempo Costanza Tempo Tutte cose Praticamente Sprego pure energie Sì 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 non ti tocco più pappagallo non ti tocco più non ti tocco grazie maria leticia gigante perché c'è lefty? perché c'è lefty? no no non ci credo cioè non ci credo dice io col defcon abbazzato dai freddi e titi me l'ha rimessa ma titi titi infame non pappagallo infame questo è titi di grazie tommaso spada per la donazione fammi da 50 20 tutti a 20 bella non sono un tuo fan bella bellissima sento il caldo del Sahara nelle mie tasche eh eh dai non bloccarti quando voglio io certo tutto a me è l'ultimo ringraziamo la mia stupidaggine che ho sbagliato di nuovo ringraziamo la mia stupidaggine ciao giampiero alioto ciao domines con witter ciao ciao a tutti allora oh ragazzi aspetta un attimo mi sono rimpappinato mi sono rimpappinato di nuovo stacca questo attacca questo attacca di così basta impappinarsi dannata di di che mi mette gli animatronics che non voglio e me li metto lo stesso perché dice oh che bello ha tolto quello vuol dire che gli sta antipatico rimettiameglielo che bello mi piace fare incavolare il mio botoncino che bello parca di quella miseria dai che cosa ma che c'era fnaf 1 più pappet e 20 finchè non finisco stanotte non se ne parla scusami no scherzo sapete fnaf tira fuori il peggio di me ma io lo dico ferma oh oh sono uscito dal gioco perfetto scegliamo un'altra notte scegliamo un'altra notte scegliamo un'altra notte perché già mi sta mi sta rompendo che bello allora scegliamo allora tu ti vedi no no mi prego no non fatelo fai la friend's night no mi prego non fatelo fai fra tre quattro siete sei e tutti no 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 oddio ragazzi allora scegliete voi allora scegliete voi allora ne faccio un'altra scrivete sì faccio la stessa che stavo facendo poco fa scrivete no va bene intanto saluto ginevra eutropio saluto anthony89 saluto simone molinaro no per fare quella che ho sempre fatto finora e sì per fare un'altra se 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 no no se no se se tutte se tutte se ne faccio un'altra ne faccio un'altra ne faccio un'altra che così dobbiamo intrattenere cioè non è che possiamo fare la stessa cosa allora golden freddy game allora vai questa nella prossima notte metti baby allora metti baby scrap baby ballon boy jj phantom bb e netbear ballon boy ehh 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 se questa notte dai facciamolo così vediamo vediamo in questa notte l'unica che da problemi sarebbe questo va bene va bene allora rimaniamo accesi tutto il tempo così nelle telecamere ci posso andare tranquillamente? sì ma dobbiamo andare ad accogliere tipo i Pats coins quindi Pats coins Pats coins Pats coins Pats coins Pats coins vabbè 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 finchè quella mi entra non mi interessa mi interessa solo se c'è l'altra e a 20 quella si trova quante volte potrebbe attaccare? dico quante volte potrebbe attaccare quante volte potrebbe attaccare questa? Ma è da sinistra o da destra che mi appare? Da destra dovrebbe apparirmi Giusto? Due del mattino Si vede che è molto tranquilla questa Come notte Vabbè finchè Io ce l'ho ragazzi Ce l'ho giusto Finchè non mi appare O c'è jay però Finchè non mi appare qua Devo stare tranquillo giusto? Non ti tocco Che tanto ormai ci sono Due del mattino Due minuti e undici Eccola Fatto Aia 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 Recupera faz coins Recupera faz tokens Faz coins o faz tokens No ragazzi Riccè 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 cosa faccio? Ragazzi Ragazzi c'è Non riesco a capire cosa fare Ragazzi no dai Non è possibile Non ho abbastanza faz tokens Raccoglili Ok Lui sui sui Dieci 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 Non glielo posso dare Mi sa che rimane là Perché ho il suo peluce Ragazzi Quindi notte completata Giusto? Spero Almeno Credo Spero tanto Non dovrebbe farmi nulla Sì perché ho il suo peluce Quindi niente Grandi E se l'andata E se l'andata raga E se l'andata Dai che questa notte è completata 30 secondi E non lo tocco Perché non vogliamo dirci Per quello stupido We allora Come è il tuo inferno? Bello? Ti piace? Rimaniamo 10 secondi così 3 4 5 6 7 8 9 10 Completata Questa era Abbastanza semplice Molto semplice Bello bello Mi è piaciuta Tra l'altro Da notare Perché il computer Mi mette a laggare Se io faccio Il gioco Cioè Non lo so Durante le telecamere Saluto Milan Balasuria Saluto Vito Cece Saluto Lorenzo Mattiuz Ciao Pyrex 130 Ciao Fiore Ciao Gianfran Pierpaolo Il grande Intanto saluto I donatori I donatori Manco fossero donatori Di sangue Ok Tomato Spada Maria Leticia Gigante Matrix 2000 Edelmaster Grazie Compà Dottor De Posec De Helpers Persona fantastica L'All Warfare Adu Boston Pasquale Carpentiero Facciamo l'ultima Raga Facciamo l'ultima notte L'ultima notte Mettiamo tutte Zara Vai Giovanni Fortunato Sei molto Fortunato Ciao Ciao Tuca 21 Ciao L'ultima Vai Vai Andate 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 Mamma mia Adesso Adesso Lo scienco Ragazzi Adesso Lo scienco Tutti i animotracks Che non mi uccidono In che senso Ciao The Crackers Vediamo questa Tutti i fossi Trenne una A tua scelta Ovviamente Il principale Non lo metto Va bene Quindi Notte di William E Pertua Ok Tutti i foxy Però Mangole pure Una foxy Vale Devo mettere per forza Vediamo Si mettiamo lei Foxy Foxy Phantom Mangole Eh Nightmare Mangole Sembra Peluche Questo è un problema Fatte foxy No Adesso Devo decidere Se togliere Questo Allora Dipende Se c'è Bonnie Non mi dai Bonnie Come opportunità Quindi mettiamo Queste E poi lo distruggo Col death coin Foxy Rockstar Foxy Giustamente E basta Poi Salsiccia Freddi 20 Phantom Freddi E lefty 15 15 E lefty 15 Freddi Normale Springtrap 19 Dove sono Questi Dov'è L'ultimo Dov'è Springtrap Che non lo vedo Che c'è Scabstrap Ah qua Che senso Ammetterlo 19 Mettolo 20 Direttamente Nightmare Puppet 14 Questa notte E di William Vertua E Andiamo a morire Allegramente Che bello Ci sono tutti Foxy Almeno Io spero Di averli messi E vai Divertiamoci Aspetta un attimo Aspetta un attimo Mi ricordo Quali sono Quindi Telecamere Telecamere Questa notte E' di Telecamera Questa notte E' di Telecamera Rimane sempre Il fatto Che devo andare A prendere Questi Faz Tokens Ritorna Ritorna All'una Grazie Per avermelo Detto Senza di te Non ce la farei Mai Lefty 86% 86% Merda Ritorna All'una Giustamente Bro Ritorna All'una Bro Va bene Ritorna All'una Ritorno Scusami 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 E' stato bello Scusami Non volevo ferirti Nei sentimenti Scuri Della tua Anima Ma che mi serve Il tuo rumore Non mi serve A che dove devo andare Qua alle due Meno male Ritorna alle due Ritorna all'una Ma ritorna Quando vuoi Ma che so Ok Un po' troppo Però ne spreco Eh Mamma mia Quanto T'ammazzo Adesso Devo andare Proprio Dannazione No 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 Non ho fatto 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 Non posso Compre beluce Ma io non ho capito Se fa Tempo Se è maschio o femmina Non l'ho capito Neanche io Giuro Se è maschio o femmina Ragazzi Voi che dite Facciamo la lotta Sotto nei commenti Hashtag Fante foxy Maschio Ah E' una superta Hashtag Fante foxy Brut Hashtag Fante foxy Brut E' molto più Trend come cosa E' molto più trend E' molto più trend Ecco Dovevi tornare A luna Va bene Grazie Invece Arrivederci Sono No Sono in live Sono in live Sono in live Sono tutti all'altra parte Aspetto un attimo Eh sono in live Un attimo E devo avvisare Perché Devo avvisare Facciamo queste Ragazzi E finiamo Ok Facciamo questa Ricominciandola Da capo Ok Scopo Andare a trovare Questi fast tokens E prenderli Ma che ora ti devo andare A fare visita Alle due E le due sono da te Fante foxy E le due sono da te E' bello Un attimo Un po' di energia Non si sa mai Un po' che lago Ogni volta Quando vado sulle telecamere Non so il perché Alle due Vengo da te Uè raga Non saprei Ci deve essere Un modo Per eliminare Un animatore Sfrutto Alle due Che ore sono? E' l'ora di andare? No Carca miseria Ciao Grazie Amicale Ciao Xiris Blue XX Qua non ci sono Tieni questo Ciao Anche Fate foxy Maschio Sapete che forse Maschio Sì sì E' proprio Maschio Non ci credevo Nemmeno E Anche se cambio Dico anche se Veloce 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 Prendi Fats Token Prendi Fats Token Che ore è qua Alle tre Va bene Ritorno alle tre Grazie Per avermelo detto Ti voglio bene Quindici Quindici 50% Lefty Ti devi stare calmo Un attimo Grazie Per favore Lefty 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 calmo Lefty calmo Lefty calmo Ok Posso andare Subito ci facciamo i soldi per il death coin Raga Ci facciamo subito i soldi per il death coin Ho il super pazzetto Facciamoci i soldi per il death coin 6 Perfetto E l'ho completata Cioè No Non l'ho completata Perché adesso muoio Ci siamo 2 E 14% Non lo so Raga Non lo so Lefty Non lo so Non posso uccidere Lefty Così Questo Ciao Sakura Gamer Ciao Minan Ball Surria Non ce la faccio Con la Con la power Non ce la faccio Con la power Però c'ero Raga c'ero C'ero Devo essere più veloce Sono un'ora e venti Ragazzi Un'ora e venti Lo faccio l'ultima volta L'ultima volta Vi voglio tanto bene Anche per tutti quelli Che si sono abbonati Tra poco sta finendo Sta live Ma ci siamo No no aspetta Ci siamo Ci siamo Gira fuori Ci siamo Ok ci siamo Ci siamo Che ora Che ora Quanto da fastidio Quanto da fastidio Quanto da fastidio Quanto da fastidio Un po' Mamma mia sti peluche Che costano come se non ci fosse un domani Un po' di lefty Se no quello parte a botta No Per 10 fasto Salvini farà diventare Gli ursi illegali non l'ho capito il perché Perché mi uccidono Freddy Perché Freddy è proprio un brutto Scagnozzo di Secondo me Freddy è succube di Foxy Secondo me Foxy è il più potente animatrice Di tutti che devo ritornare alle 3 del mattino 3 del mattino sono qua No rega Dove l'hai fatto in Foxy Sì ma devo ucciderlo in Foxy Devo ucciderlo in tutti i modi possibili Devo trovare fast tokens prima Per Porca miseria Ci voleva questa Perfetto Perfetto Vai 16 Un po' 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 Tanto per calmarlo Ok L'ultimo Vai Alle 3 ci devo ritornare Raga Alle 3 ci devo ritornare Da quella Anche perché mi servono 10 fast tokens Per ucciderla Ciao Lorenzo Ciao Lorenzo Intanto ce l'ho Cambiamo lefty Ragazzi Ragazzi secondo me Secondo me Dovevo fare così Secondo me Dovevo fare così Sono le 3 del mattino 3 minuti 2 minuti Scusa Scusate Ho sbagliato Scusate Scusate Alle 3 Alle 3 Contro l'orario Tutta la vita Contro l'orario Tutta la vita Alle 3 Alle 4 Ripengo alle 4 Va bene Ripengo alle 4 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 Che ore sono? Che dai Forza Dai Le 4 devono essere Le 4 Raga alle 4 No Ma te ti ho controllato Ti ho controllato Ti odio Ti odio Ti spacco il microfono in testa No Niente raga Io direi L'ultima e finiamo L'ultima e finiamo Anche perché sono stacco Mi devo preparare Devo uscire Devo fare tante cose Oggi giorno di festa Ogni giorno di festa Però se magari Prendi più Fat tokens Possibili Magari ce la spicciamo Che ora? 2 del mattino Passaggio alle telecamere Siamo per un passaggio importante E vabbè E vabbè Per quello Un passaggio molto importante Essere Ammazzati E che fate Le primi Nell'essere ammazzato Che fate Le primi Io non me ne privo No no Non me ne privo Ciao Ciao Giacomo Gennari Porca miseria 16 2 del mattino L'ultimo Quando è l'una del mattino In sto luogo? 24% Ragazzi Ho sbagliato tutto di nuovo Incredibile Ho sbagliato tutto Tutto Sbaglia tutto Ma non è vero Che femmina sia A quanto pare Maschio Ragazzi Mamma mia Non si capisce Un attimo Com'è Com'è Combinato Che ora? Luna Prendili Prendili Fatstockens Luna E che ora è Alluna Non so Quando inizia Luna Gaia lo negro Ciao Non ha Non ha Non ha Non ha Ah non ha Sesso Proprio Non è Né maschio Né femmina È un invertebrato È un essere È un essere Come si dice Asessuato Non ha Proprio niente Povero Fatten Fox Mi dispiace Per tanto Per lui Vabbè dai Non ha Tanti Problemi Mi dispiace Tanto Per lui Ragazzi Facciamo Una Pregherina Per Fante 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 Dai Basta Basta È stato Bello È stato Bellissimo Cioè Una Le ho Completata Una Vabbè dai Fante Queste live Sono fatte Per Intrattenere Bellocci miei Ok ragazzi Io direi Che la live Di oggi La posso Anche Terminare Qua Iniziamo A Nei ringraziamenti Mia Ciao Sei bravissimo A fare le vittorie Nel video È tutto diverso Perché Voi non lo sapete Ma io ci sto Tre ore Per registrare Un video Di Fluff Di quelli Di questa Difficoltà Vabbè Quelli normali Subito 5 secondi Non è un problema Ok Saluto Salutiamo I donatori Ciao Fire Ender King Ciao Gabrit Stale Ciao Mattox 40 Ciao Francesco Del Vecchio Ciao Pasquale Carpentiero Ciao Radu Boston Ciao Lol Wolf Ciao Persona Fantastica Ciao The Helpers Ciao Dottor Posec Ciao Eden Master Ciao Matrix 2000 Ciao Tommaso Spada Ciao Maria Leticia Gigante Salutiamo Ciao Lori Ciao Lori Giulio Dori Ciao Fra 22 Master Ciao Oscar Taveras Ciao Ciro Casolino Ciao Aaron Giordano Ciao Aaron Giordanino Ciao Itzu Suzuki Ciao Mac Ciao Youtuber Player Fra Ciao Genox 3 Ciao Angelica Giacobbe E ciao Antonio Giangreco Grazie mille a tutti per essere venuti Ci vediamo con un nuovissimo video la prossima volta Ehm Nulla Questa Questa live la posso anche termine qua Come vedete sono tutto sudato Vi va tantissimo bene Grazie per le fanarte che avete fatto su Troxy Grazie per tutte le donazioni Per tutti gli abbonamenti Se volete abbonarvi Potete anche farlo Ehm Noi ci vediamo Ad una prossima live Ehm Ciao Ehm 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 Ciao A tutti Ehm Grazie.